Buonasera e ben ritrovati da Giuseppe Bellino al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in apertura del nostro telegiornale. Parliamo del Capodanno barese, confermato il concertone in Piazza della Libertà. Ospiti della serata saranno Fra Quintale, Coez e Ermalmeta. Tutti i dettagli nel servizio. Saranno Coez, Fra Quintale ed Ermalmeta gli artisti che animeranno la notte di Capodanno a Bari. L'amministrazione comunale ha infatti reso noto il programma del concertone che accompagnerà l'arrivo del 2024. Sarà ancora una volta Piazza Libertà ad ospitare il grande palco. Tornando agli ospiti, Coez e Fra Quintale sono considerati attualmente pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato. Insieme hanno firmato l'album Love Bars, certificato disco d'oro e protagonista della scorsa estate. Quella di Bari sarà la prima volta in assoluto di Coez e Fra Quintale live insieme prima dell'avvio del Love Bars Tour a gennaio. Ad abbracciare il pubblico barese sul palco di Piazza Libertà sarà anche Ermalmeta, un ritorno a casa per il cantautore che rappresenta da anni un punto di riferimento nella scena italiana pop rock anche in qualità di autore, penna raffinata che tra l'altro ha riscosso successo di pubblico e critica con il suo primo romanzo Domani è per sempre. La festa in piazza continuerà fino a notte fonda con l'esclusivo DJ set in collaborazione con Radio 105. Nei prossimi giorni partirà la macchina organizzativa, gli operai cominceranno a montare il grande palco in Piazza Libertà. Sarà previsto anche un piano traffico e un servizio di trasporto urbano per permettere ai cittadini di raggiungere il centro senza utilizzare l'auto. Il concerto della fine dell'anno ha dichiarato l'assessore alle culture Ines Pierucci è un'occasione per festeggiare con la città quanto accaduto, lasciarsi alle spalle in momenti più bui e salutare il futuro che ognuno di noi non conosce ma che auspichiamo possa sempre appartenere a chi crede nella bellezza dei propri sogni, anche quando, per dirla con le parole del singolo di Coez e Fra Quintale, che sarà protagonista sul palco di Bari. Siamo persi nel buio e nella marea e non si vince da soli ma ci si allea. E noi cambiamo argomento, passiamo alla politica. Il pacchetto sicurezza del governo Meloni è stato il tema dell'evento organizzato dal centrodestra barese all'hotel Parco dei Principi di Bari. Presente il sottosegretario di Stato all'interno Emanuele Prisco e ovviamente un riferimento alle prossime elezioni amministrative. Il servizio di Raffaella Di Renzo. Un tema divisivo che vede spesso delle contrapposizioni è quello della sicurezza affrontato in un incontro a Bari a Parco dei Principi con il sottosegretario di Stato all'interno Emanuele Prisco. In base alla percezione di una parte della cittadinanza in merito alla sicurezza nella città di Bari è emersa la richiesta di una militarizzazione della presenza della polizia locale. La sicurezza a livello di percezione sta a cuore a ciascuno di noi e nell'agenda del governo questo tema riveste un ruolo fondamentale. Tra il decreto Caivano che ha visto la premiera impegnata in prima persona per finire al pacchetto sicurezza vagliato qualche settimana fa si inserisce il tema specifico della sicurezza discusso nell'incontro in cui erano anche presenti il sottosegretario della salute Marcello Gemmato e Michele Piccaro consigliere regionale della Puglia. L'incontro è stato moderato dal giornalista Nicola Pepe. Quest'oggi noi continuiamo con l'analisi delle criticità per Bari, parliamo di sicurezza, lo facciamo insieme all'onorevole Prisco. Oggi fondamentale è creare un collegamento fra Bari e Roma, intercettare la straordinaria stabilità di governo che sta dando il governo Meloni e riuscire a portare a ritornare, a fare essere centrale Bari nello scenario nazionale. Lo faremo sicuramente col G7, in Puglia sarà presente e quindi in tutto il mondo conosceranno la Puglia. 1,4 miliardi è la somma destinata alle forze di polizia e dalle forze armate e altri 100 milioni ai vigili del fuoco. L'impegno del governo è massimo, lo è stato nella scorsa legge di bilancio con un potenziamento degli organici, lo è in questa legge di bilancio riconoscendo strumenti aggiuntivi alle forze dell'ordine per operare, soprattutto a difesa dei più fragili, gli anziani, i bambini, nuove misure che consentano anche di ridare dignità alle forze dell'ordine. E continuiamo a parlare di elezioni amministrative, arrivano i primi sondaggi e a quanto pare il centro-sinistra sarebbe in vantaggio, il servizio di Roberto Maggi. Un centro-sinistra che nel suo assetto allargato apparirebbe nettamente in testa con un 74% delle preferenze, il PD come primo partito, Pietro Petruzzelli come nome più gradito, subito sopra Paola Romano, Michele Laforgia e Filippo Melchiorre, primo nome del centro-destra. E quanto appare dal sondaggio realizzato da SWG per Right Now in uno dei primi sondaggi in vista delle elezioni comunali di Bari 2024. Il centro-sinistra allo stato attuale, pur senza averne ancora individuato il suo candidato, si confermerebbe alla guida del capologo pugliese. Il sondaggio prende in considerazione anche l'ipotesi di un centro-sinistra diviso, però in questo caso Filippo Melchiorre sarebbe in testa ma solo con il 31%, Petruzzelli seguirebbe con il 29%, con Laforgia invece al 28%, uno scenario in cui comunque sarebbe necessario un ballottaggio con possibile affermazione del centro-sinistra al secondo turno. L'indagine quantitativa, spiegano dall'istituto di ricerca, è stata condotta con tecnica mista tramite interviste telefoniche online e tiene conto di un campione di mille soggetti maggiorenni residenti a Bari, secondo quote riferite a sesso, età e zona di residenza dell'intervistato. Si tratta naturalmente di sondaggi, al momento con i due schieramenti ancora incapaci di trovare un nome che rappresenti le rispettive coalizioni, c'è una campagna elettorale che si preannuncia lunga e ancora aperta a possibili sorprese. Torna il reddito di dignità per i cittadini pugliesi che ne avranno diritto, c'è tempo fino al 5 gennaio per chiedere l'assegnazione dei sussidi, i dettagli della misura sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa. Un'ISE non superiore a 9.360 euro con limiti massimi più favorevoli per le famiglie numerose fino a 15.000 euro avere la residenza in Puglia da almeno 12 mesi, essere in possesso di capacità residue e di autonomia sufficienti a svolgere le mansioni e le attività individuate nel patto di inclusione sociale attiva. Sono questi alcuni dei requisiti di accesso per il nuovo bando per il reddito di dignità presentato in regione dopo la pubblicazione dello scorso 5 dicembre, dando seguito alla misura introdotta già da alcuni anni in Puglia. In questa nuova edizione del reddito il dipartimento welfare ha definito la propria politica di inclusione sociale in sinergia con il dipartimento politica del lavoro. La novità infatti è stata conciliare il reddito con il percorso 4 del programma goal rivolto alla menesima platea di destinatari. Per coprire il più possibile beneficiari si procederà con un avviso con graduatoria che prevede finestre temporali di presentazione delle istanze dei cittadini. Per questo primo bando le domande dovranno essere consegnate entro il 4 gennaio. Gli intervalli sono stati programmati nel corso del periodo di vigenza del programma Puglia-Fesra-FSE 2021-2027. Della dotazione complessiva dell'azione a cui fa riferimento pari a 45 milioni di euro, la prima finestra temporale potrà quindi contare su una montare pari a 15 milioni di euro di risorse comunitarie. L'indennità economica di attivazione ha una durata di 12 mesi e un importo massimo di 6 mila euro a anni corrate i mensili. Mentre il governo in maniera scellerata staglia, distrugge il reddito di cittadinanza, la regione Puglia continua a sostenere, a promuovere e a scommettere sul reddito di dignità. C'è questa sinergia importante attraverso dei protocolli, attraverso la nostra misura gollo, quindi non soltanto un'inclusione sociale ma anche un'inclusione lavorativa. Se si tratta delle categorie speciali, quindi donne vittime di violenza, genitori separati e senza fissa dimora che sarà l'ambito a effettuare la domanda. Per l'avviso, che quindi non riguarda queste categorie ma tutta la restante platea, è necessario accedere al nostro portale regionale, accreditarsi al portale attraverso lo speed, creare il codice famiglia e dopodiché generare la domanda. Il presidente Emiliano infine ha fatto riferimento all'incontro che c'è stato ieri con il governo, soprattutto con riferimento alle risorse da cui attingere per questo tipo di misure. Dovete sapere che il RED è sopravvissuto fino ad oggi e anche oggi noi possiamo presentarlo grazie all'autonomia che la regione Puglia ha avuto nel gestire i fondi europei in un dialogo esclusivo con le istituzioni europee senza l'intermediazione, alle volte ideologica, dei governi nazionali. Questa autonomia delle regioni nei fondi europei è un pilastro fondamentale che purtroppo in queste ore è messo in discussione. Ed è arrivato il momento di collegarci con il nostro sito web www.telebari.it con il nostro Italo Cinquepalmi. Italo buonasera, vengo da te. Buonasera Giuseppe. Allora ancora un pomeriggio nero per gli automobilisti che hanno percorso la Statale 16. Per motivi da chiarire un camion ha preso fuoco all'altezza dell'uscita di Via Napoli in direzione sud. Nello stesso momento un'auto in panne sulla careggiata opposta ha causato notevoli disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e quattro pattugli della polizia locale oltre un mezzo dell'ANAS. Non si registrano feriti ma problemi alla circolazione stradale con auto incolonate per chilometri in entrambe le direzioni. E andiamo avanti. La corte urbana Don Bosco al quartiere San Paolo di Bari rinascerà grazie al progetto G124 dell'architetto Renzo Piano. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo denominato appunto G124 per il quale è stanziato un milione di euro con fondi del PON Metro. Il lavoro trasformerà la corte in un giardino pensato come un grande soggiorno collettivo arricchito da 110 alberi fra lori e lecci disposti in modo da consentire il pieno sviluppo delle chiome e da creare un tetto verde. E chiudiamo quasi 2 milioni di euro all'anno per tenere aperti i bagni pubblici e quanto spende il comune di Bari a riferirlo il sindaco Antonio De Caro intervenuto nella nostra trasmissione Chiama De Caro. Il primo cittadino ha risposto alle sollecitazioni di telespettatori che chiedono di prolungare l'apertura di bagni pubblici in piazza del Ferrarese e De Caro ha comunicato che gli orari di apertura saranno appunto allungati. Bene con questo è tutto per oggi, a te buona serata. E grazie, grazie al nostro Italo Cinque Palmi noi cambiamo argomento. L'Istituto Tumori di Bari ha stabilizzato 24 dipendenti. La firma dei contratti è avvenuta questa mattina nella sala stampa dell'oncologico alla presenza anche del governatore Emiliano. 17 infermieri, due tecnici di laboratorio, una giornalista, un collaboratore amministrativo, due osse, un ingegnere, 24 lavoratori dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II tra cui 18 donne hanno firmato i loro contratti a tempo indeterminato a seguito della stabilizzazione in linea con quanto previsto dalla legge Madie sulle amministrazioni pubbliche. Una decisione arrivata a seguito della rimodulazione dei piani di fabbisogno col tentativo di colmare i vuoti negli organici da tempo segnalati in tutta la sanità. A questo contribuiranno le ulteriori 23 unità in attesa di un contratto a tempo indeterminato. Avviare un progetto di ricerca e interromperlo a causa del sopraggiungere del tempo di scadenza, del termine di scadenza del contratto significa vanificare la continuità dello stesso progetto di ricerca. Ma la cosa che a noi interessa di più è non vanificare invece la continuità assistenziale che queste persone garantiscono con la loro presenza stabile nell'organizzazione. Per i lavoratori stabilizzati invece si tratta di un importante traguardo sia per pensare a dei progetti personali di vita sia per poter dare continuità al proprio lavoro. Soprattutto con tutto questo discorso del PNRR, altri progetti finanziati a livello comunitario, a livello nazionale, ci vuole sicuramente una continuità nel lavoro. Noi lavoriamo in ambulatorio di oncologia, quindi prettamente di accettazione del paziente, chemioterapie e quant'altro. Siamo più motivati per questa grande opportunità che ci ha dato questo istituto. Grazie. Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha ospitato nella sua direzione generale ad Altamura la seduta di laurea dei corsi magistrali di economia. Ce ne parla Raffaella Di Renzo. La direzione generale di Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha ospitato nella sua sede centrale la seduta di laurea dei corsi magistrali di economia degli intermediari finanziari di innovazione, governance e sostenibilità del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa Uniba. Un'offerta formativa destinata a formare esperti con competenze manageriali nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità. La Banca Popolare ha da anni iniziato una preziosa collaborazione con l'Università degli Studi di Bari, trasformandosi anche in un'aulamagna per ospitare una seduta di laurea del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di otto giovani laureanti dei corsi magistrali di economia. Nasce prima di tutto da un'iniziativa dal nostro consigliere Rossella Caderazzi, che è anche professore all'Università di Bari, intermediari finanziari e quindi da un suo invito che abbiamo accolto molto volentieri. Nasce nella necessità di collegare la banca al proprio territorio e soprattutto i giovani, i giovani che non devono andare via, devono rimanere qui per contribuire alla crescita delle zone in cui loro sono nati e in cui hanno anche i loro affetti. La collaborazione nasce dalla nostra volontà di favorire i momenti di contatto tra i nostri laureandi, laureati o comunque studenti e il mondo del lavoro. Si dice spesso che bisogna cooperare, fare sinergie, fare squadra, tutte queste belle parole. Noi oggi cerchiamo di dare corpo concreto a questi obiettivi. Quindi la finalità è quella di presentare i nostri laureati al mondo del lavoro, ma è anche una testimonianza della cooperazione che svolgiamo sia per attività didattica che per attività di ricerca con questo istituto. E torna a Bari il villaggio della prevenzione della Lilt dal 14 al 16 dicembre in Piazza Libertà con screening, incontri e attività ludiche. L'intervista alla Presidente Provinciale della Lega Marisa Cataldo. Vediamo. Torna a Bari il villaggio della prevenzione il 14, il 15 e il 16 dicembre. È la prima edizione dell'evento Lilt Christmas che abbraccia una serie di iniziative e la più importante delle quali sicuramente il villaggio della prevenzione. Un segnale concreto da parte della Lilt di una prevenzione gratuita, una tre giorni a disposizione della cittadinanza con visite specialistiche, esami strumentali, esami diagnostici. Avremo la clinica delle mammografie per cui c'è una possibilità reale di fare prevenzione gratuitamente. L'evento abbraccia una serie di iniziative tra le quali anche un concerto diretto dal maestro Paolo Lepore e una cena di beneficenza. C'è un'ampia attività anche riservata ai bambini per una duplice ragione. Perché per tutti sia un Natale con la Lilt e soprattutto perché i genitori possono avere la possibilità di sottoporsi agli esami e alle visite non badando ai loro bambini, nel senso che ci sarà chi lo farà per loro. Ovviamente è un lavoro di squadra, è una grande sfida, una sfida che non avremmo potuto nemmeno ipotizzare senza la collaborazione fattiva, concreta, generosa della Brigata Pinerolo, dell'Avis, della Croce Rossa. Lavoriamo tutti insieme, siamo sicuri che la cittadinanza sosterrà questa nostra iniziativa innanzitutto con la partecipazione. È stata presentata a Palazzo di Città la seconda edizione di Raccontiamoci Bari, il progetto del primo municipio per far conoscere le bellezze del territorio. Avvicinare famiglie e cittadini alla conoscenza dei luoghi in cui vivono per garantirne la riscoperta e apprezzarne il valore artistico-culturale è l'obiettivo di Raccontiamoci Bari, il progetto nato nel primo municipio e giunto alla seconda edizione. Quest'anno oltre alla bag con materiale promozionale i partecipanti più fortunati potranno vivere l'emozione di prendere parte a tours speciali e degustare prodotti tipici della tradizione barese. La nuova edizione prevede anche itinerari per bambini e ragazzi. L'idea è quella di far conoscere la città in quelli che sono i suoi lati più reconditi, di intercettare quello che è il turismo meno popolare, quindi un turismo un pochettino di nicchia, con dei itinerari innovativi che riusciremo a realizzare quest'anno, in particolar modo l'idea di far vedere Bari direttamente dal mare. Infatti tra gli itinerari nuovi di quest'anno rispetto all'edizione precedente ci sarà la possibilità, attraverso un'imbarcazione che percorrerà tutta la zona che va da Torre Quetta fino alla Fira del Levante, attraverso un'imbarcazione i cittadini salendoci sopra e avendo l'opportunità di avere delle guide sull'imbarcazione potranno ascoltare la storia di Bari direttamente dal mare. Anche per questa edizione durante l'itinerario, oltre alla presenza dei guide esperte che accompagneranno i partecipanti, si potrà usufruire di QR code per scoprire i punti di interesse leggendone o ascoltandone la descrizione. Ormai da due anni abbiamo deciso di trasformare i baresi e Bari in una grande piazza turistica, perché siamo dell'avviso che per un barese poter raccontare la propria città con gli occhi di un turista rappresenta sicuramente il miglior biglietto da vista a poter esportare al di fuori del nostro territorio. E adesso una notizia di servizio, parliamo delle aperture straordinarie del numero verde Amiupuglia. L'800 011 558 sarà raggiungibile gratuitamente sia da numero fisso che da telefono cellulare e operativo per le necessità degli utenti anche nei seguenti giorni festivi, 8 dicembre domani dalle 7.30 alle 13.30, 26 dicembre Santo Stefano dalle 7.30 alle 13.30 e 6 gennaio 2024 dalle 7.30 alle 13.30. E noi cambiamo ovviamente argomento, passiamo alle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dalle altre province pugliesi. Partiamo da Polignano dove è stato presentato il cartellone degli eventi natalizi in partenza da questa sera. Ci racconta tutto Francesco Russo. Un mese di eventi per c'era una volta in Natale il fitto programma di iniziative con certi spettacoli e laboratori e intrattenimento concepito a Polignano fino al 7 gennaio per tenere compagnia i residenti e ospitare i turisti nella città più accogliente del mondo. In crescita infatti sino al 30 novembre gli arrivi, in particolare di stranieri, Stati Uniti, Australia e Francia, i primi tre mercati nel 2023. Attendiamoci un Natale che Polignano merita. Ci sono attrazioni per tutti, dai più piccolini, dai piccini ai più grandi. Siamo la città più ospitale del mondo, siamo orgogliosi. Ne approfitto per ringraziare tutte le associazioni di categoria legate al turismo e in particolar modo gli albergatori che ci hanno aiutato a conseguire questo premio. ma le associazioni ci hanno dato una mano anche ad organizzare questo cartellone. L'obiettivo di questa manifestazione ovviamente è quello di creare un'onda lunga rispetto alla stagione estiva che è terminata e che ha riscontrato successi enormi diciamo in termini di flussi di presenze e di arrivi. Un evento di qualità che rimette al centro la nostra identità, le nostre tradizioni e dando un taglio a un profilo fortemente culturale. Si parte con l'accensione delle luminari, l'arrivo di Babbo Natale, i mercatini, il ritorno della giostra, della dinamica del controvento in piazza San Benedetto ma non mancano le novità. Avremo modo di vedere degli artisti molto particolari che performeranno con un pianoforte, una danzatrice su un pianoforte come una sorta di carillon vivente come pure avremo per la prima volta in Puglia una performer che viene dal Cirque du Soleil che si chiama Andrea Antibouto e che ci porterà uno dei suoi numeri più famosi che ha fatto il giro di praticamente tutti i festival mondiali di circo con grande successo. Ci spostiamo a Lecce perché tra le 100 eccellenze italiane compare Ma Basta contro il bullismo. Abbiamo ascoltato l'ideatore della start-up con il nostro Fabio Serino. Per la categoria lotta al bullismo il premio a Mirko Cazzato, presidente dell'associazione Ma Basta. Ancora un riconoscimento per Mirko Cazzato premiato a Roma come eccellenza italiana per il grande e appassionato impegno profuso attraverso la start-up sociale Ma Basta, movimento contro il bullismo. Il mio nome è risultato tra le 100 eccellenze italiane. Le mail come oggetto si è stato scelto tra le 100 eccellenze italiane. Appena ho letto il titolo mi sono appietrificato perché comunque leggendo sull'ettitolo già ho compreso l'importanza di questo premio. Ero davvero molto preso da come Ma Basta fosse riuscito da zero, praticamente da partire comunque da questa bellissima piazza, da una città molto piccola appunto come Lecce, ad arrivare davvero a un livello così grande e nazionale soprattutto. E questo è un ulteriore premio di grande livello che Ma Basta ha e che ancora una volta va a certificare quello che noi abbiamo fatto in questi anni, in questi quasi otto anni, a febbraio sono otto anni, e soprattutto l'importanza di quello che Ma Basta fa. Ancora una volta questo premio va a caratterizzare il quanto è fondamentale un movimento come nostro a livello nazionale e quindi il fatto di riuscire a fare formazione peer-to-peer con i ragazzi. Ed è pronta per essere inaugurata a Brindisi una pista di pattinaggio su ghiaccio che potrà ospitare sino a 100 pattinatori contemporaneamente, il servizio è di Riccardo Celli. È ormai alle porte l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio installata attorno a Piazza Cairoli a Brindisi. L'opera, che potrà ospitare un massimo di ben 100 pattinatori, è una delle poche iniziative natalizie presenti sul territorio brindisino. La stessa sarà a forma ellittica e avrà una superficie ghiacciata di circa 300 metri quadrati. Come sempre l'opinione pubblica è divisa. Molti credono che sia una bella iniziativa, ma altri la considerano inadatta al contesto. Qualsiasi iniziativa si possono fare, che raccolgono gente e possono rendere la città migliore da questo punto di vista con maggiore attrazione, è sempre benvenuto. Non la vedo una cosa bella da fare, perché? Le spiego subito perché. Perché noi abbiamo un clima particolarmente mite e quindi non la trovo una cosa adatta alla città di Brindisi. E andiamo ora a Foggia, dove il WWF ha inaugurato la prima aula natura all'interno di un istituto scolastico cittadino che funzionerà tutto l'anno e sarà a disposizione di alunni e docenti. Ci racconta tutto Nicola Saracino. Uno spazio naturale in una scuola per insegnare ai più piccoli il rispetto dell'ambiente circostante. È il felice esperimento partito da oggi nel giardino dell'Istituto Comprensivo Statale Foscolo Gabelli di Foggia, dove è stata inaugurata la prima aula natura nata grazie al WWF con il supporto di Procter & Gamble nell'ambito del programma di cittadinanza d'impresa PNG per l'Italia. Noi puntiamo molto anche al fatto che poi loro torneranno a casa e ne parleranno ai genitori. E quindi, diciamo, in un periodo in cui Foggia e la provincia di Foggia è apparsa anche negli ultimi posti delle classifiche sulla vivibilità, per noi è un po' come vedere la luce in fondo al tunnel. Non è soltanto una scelta fatta da un punto di vista didattico e per creare una didattica innovativa, ma anche un'opportunità che vogliamo dare ai ragazzi, un grido da dare anche alla nostra città. La missione di Procter & Gamble è quella di migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future e con il progetto delle Aula e Natura ci rivolgiamo proprio alle generazioni future. Il progetto Aula e Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020 dopo il primo lockdown e dal 2021 è sostenuto da P&G con l'obiettivo di realizzare entro il prossimo anno almeno 50 Aula e Natura in tutta Italia. Bene, ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, festa dell'Immacolata, giungerà una nuova perturbazione sull'Italia che dalla Francia interesserà soprattutto le regioni occidentali del nostro paese sprofondando poi nel fine settimana verso il sud. Per quanto riguarda la mappa della nuvolosità notiamo come gran parte del nostro territorio sarà interessato da una coltre di nubi in particolare al centro nord con piogge nevicate anche a quote piuttosto basse al nord-ovest infatti osservando lo zoom delle precipitazioni notiamo come fenomeni nevosi anche a bassa quota interesseranno il basso Piemonte, l'Odigiano e il Pavese a tratti mentre sul resto del nostro paese saranno le piogge a prevalere in particolare sui versanti terrenici perché comunque i versanti adriatici in generale saranno meno coinvolti da questa perturbazione. Infatti la giornata sarà a tratti anche abbastanza soleggiata sul medio-basso adriatico ma con nuvolosità in aumento mentre il maltempo nella giornata di venerdì si concentrerà soprattutto al nord-ovest sulla Sardegna e la Toscana con piogge e come dicevo anche nevicate a quote molto basse sulle zone alpine occidentali a tratti anche in pianura sul medio-basso Piemonte e sulla Lombardia sud-occidentale. Ma per maggiori dettagli sulle vostre località continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteo.